Giornata nazionale del Made in Italy celebrata oggi al GSSI con l'evento Storia e Attività del Gran Sasso Science Institute organizzato in collaborazione con il Ministero delle Imprese del Made in Italy e con la struttura di missione Sisma 2009. Il Gran Sasso Science Institute è raccontato alla platea, fatta anche di ragazzi delle scuole superiori cittadine e di tutte le importanti attività di ricerca che si portano avanti e che rappresentano appunto un'eccellenza italiana. Oggi racconteremo la storia del GSSI e tutta la ricerca che facciamo qui al GSSI che è una ricerca di eccellenza a livello internazionale. Esploriamo l'universo attraverso i vari messaggeri, onde gravitazionali, raggi cosmici e siamo vicinissimi ai laboratori del Gran Sasso dove ci sono gli esperimenti per scoprire la materia oscura. Abbiamo svolto interventi rilevantissimi negli anni passati, come sapete bene inizialmente per riportare l'Aquila e tutti i comuni del cratere in condizioni di vivibilità. Negli ultimi anni però si è affrontata l'esigenza di dover dare slancio e sviluppo a tutte le attività di ripresa sociale ed economico-produttive. Tra queste significativa è sicuramente il sostegno dato anche alle attività di ricerca e sviluppo di preziose realtà istituzionali come quelle del Gran Sasso Science Institute e dell'Università dell'Aquila. E a proposito di ricerca, quella di ieri è stata una giornata memorabile per la ricerca scientifica all'Aquila perché presso i laboratori nazionali del Gran Sasso è stato inaugurato l'esperimento internazionale Cosinus che mira a svelare quello che è considerato uno dei più grandi misteri dell'universo, la materia oscura, un progetto che è frutto della collaborazione tra diversi paesi, Italia compresa con i laboratori. Protagonista assoluto dell'esperimento all'istituto di ricerca degli NFN, il più grande laboratorio sotterraneo al mondo, situato a 1.400 metri di profondità, lontano dalle interferenze della radiazione cosmica, la particolare collocazione del laboratorio consentirà all'esperimento Cosinus di osservare fenomeni che sarebbero altrimenti impossibili da rilevare. Prima di tutto questo rispetto a una nuova generazione, stiamo cominciando a costruire gli esperimenti di futura generazione sulla ricerca della materia oscura dell'universo. Questo tra l'altro implementa nuove tecnologie avanzate, che sono nuove anche per noi dal punto di vista pratico. La cosa interessante è che stiamo riscoprendo molti interessi dell'internazionale, per esempio in questo esperimento collabora la Finlandia che fino ad oggi con noi aveva avuto poche interazioni, quindi saranno gruppi finlandesi che verranno da noi. Questo è un riconoscimento internazionale del laboratorio che sta comunque crescendo sia di interesse dal punto di vista generale sia dal punto di vista scientifico come ricaduta che noi abbiamo in questo momento.